Tutte cose della intro ragazzi e ragazze bestie di Youtube Italia, io sono Davide Giovanni e questo è un nuovo video di Minecraft Bedrock Edition Survival. Nel precedente video abbiamo costruito questa zona qui, o per meglio dire, la zona qui era già costruita, noi l'abbiamo solo sistemata e l'abbiamo resa vivibile con una strada, delle decorazioni e questi lampioni molto carini. Inoltre, off camera cosa ho fatto? Off camera ho fatto molto questa settimana. Difatti, oltre ad aver costruito anche il percorso che parte da qua e arriva fino là in fondo, anche se non ho ancora più dei lampioni, sempre per il solito discorso di questa zona è tutta da rifare, quindi diamo cauti perché è inutile costruire tanto se poi tanto dovremmo abbattere tutto quanto. E ho fatto anche un'altra cosa, ho fatto una cosa molto interessante. Difatti, qui potete vedere ben 4 shulker, perché dovete sapere che io, off camera, ho lavorato tantissimo nel nether. Adesso vi faccio vedere cosa ho costruito, ma prima di questo vi voglio far vedere cosa ho farmato. Difatti, con l'oro, che guadagno dalla mia fantasticissima farm di oro, ho farmato molti materiali dal nostro amato amico Piglin, che si trova nel nether. Qui sono solo una parte di questi materiali, ma dovete sapere che io ne ho ancora di più. Difatti, oltre a queste due netherite hole che abbiamo qua, ne ho almeno altre due, se non sbaglio. E questo è solo un esempio di tutto quello che abbiamo farmato, ecco, come vedete qua ne abbiamo altre due roba da matti. Perché ho preso un piccolo totem dell'invincibilità? Beh, presto lo vedrete, prendo anche un acciarino perché non si sa mai, e magari pure lo scudo. Perché? Beh, presto lo vedrete, beh, se prendo lo scudo non prendo il totem, se prendo il totem non prendo lo scudo. Ottima osservazione, ragazzi. Mettiamo il totemino della mano e adesso vediamo cosa facciamo. Metto solo a posto tutto e ci catapultiamo nel nether, perché ho un grande annuncio da farvi. Raga, vi rendete conto che io non ho più un posto dove andare a mettere le pozioni? Talmente tante ne ho farmate grazie al nostro amico Piglin che ha un nome improponibile, quindi non starò a ripeterlo. Però vi dovrò bere un bel po' di acqua adesso se voglio liberare dello spazio. Ci servirebbe davvero una stanza, diciamo, dell'alchimia, possiamo chiamarla così. Perché è vero che noi abbiamo dei brewing stand e dei calderoni nella stanza del miele, nel laboratorio del miele. Però effettivamente non è una vera e propria stanza delle pozioni. Però non saprei nemmeno dove andarla a costruire. Quindi, boh, per ora ci arrangiamo così e beviamo un po' di acqua che fa bene. Poi al massimo consigliatemi voi dove poter costruire magari una stanza di questo genere. Io mi ritrovo sempre con più fire charge e sempre con meno idee per come usarle. Cioè, siamo in mezzo alla giungla. Non ci possiamo fare una ciola con queste cose. Magari qualche meccanismo di redstone, ma in qualunque meccanismo di redstone che vi chieda di accedere a un fuoco, sicuramente utilizzare flint and steel è molto più comodo che usare le fire charge che dopo un po' finiscono. Comunque, boh, non penso di averle mai utilizzate da quando gioco a Minecraft, praticamente per niente, se non per cazzeggiare in creativa o qualcosa del genere. Comunque, farmare con il nostro amico Piglin mi sta portando una marea di materiali. Come potete vedere abbiamo tanta di quella glowstone dust che, boh, non saprei nemmeno cosa farci a dire il vero con tutta questa roba. Abbiamo anche un bel po' di soul sand, il che mi fa molto comodo, anche se per quello che ho costruito nel nether non ho usato la soul sand ma ho utilizzato il ghiaccio. Ma molto a presto vedrete cosa ho costruito. Come vedete, il nostro amico ci ha fornito anche di una marea di crying obsidian. Quindi tanta roba perché è sicuramente un blocco bello, anche se non utilissimo o tantomeno utilizzabilissimo. Eccoci qui finalmente, ragazzi miei nel nether. Come vedete questo è ancora il portale, sì, non ho ancora messo a posto questa zona e adesso vi spiegherò il perché. Quello che però ho fatto è stato questo qua. Come vedete ho costruito un enorme tunnel che è anche un ponte in alcuni punti che ci permette di raggiungere il nostro amico Gervasinaldo che si trova dall'altra parte del nether in un bioma molto più bello. Sappiate che la mia intenzione è quella di andare a sistemare anche un po' il nether perché effettivamente abbiamo fatto un paio di video uno in cui lo esploravamo e uno in cui andavamo a costruire questa farm all'interno del nether e basta. Il mio piano, peraltro qui passa proprio in mezzo a una soul sand valley, in mezzo ai ghast e agli scheletri che mi sparavano. È stato molto poco divertente costruire questo ponte. Comunque, chiuso a parentesi, il mio intento è quello di andare a costruire una vera e propria città dove andare a posizionare tutte quelle che saranno le nostre farm del nether. Ecco qua che noi arriviamo dritti dritti qua dal Gervasinaldo. Come vedete è un po' lunghino e ovviamente è ancora da mettere tutto a posto, è ancora da completare il design. Va ancora chiuso. Ho ideato un design molto figo. Se volete seguire questo progetto, beh, dovrete andare sui miei canali social Instagram e Telegram che sarà lì che pubblicherò tutte le news riguardanti questo enorme tunnel barra ponte che è una gran figata, di fatto è una gran figata. Ecco, sappiate che ho intenzione comunque qui di andare a mettere tutte le farm che riguardano cose del nether comprese anche quelle che abbiamo già nell'overworld come magari la farm di Verrucke o la farm che abbiamo costruito la settimana scorsa, soprattutto quella lì. La prima cosa che faremo oggi in questa Wither Week sarà quella di prepararci. Dobbiamo prepararci, lo so, mi sono dilugato moltissimo, però era da fare. Adesso ci andremo a preparare. La prima cosa che voglio dirvi è che ho trovato una nuova fortezza del nether, migliore di quello schifo che avevamo trovato prima, che è prudicante di qualsiasi mob cattivo che possiamo aspettarci. Ecco qua già uno stronzetto. Fammi fare almeno l'intro, dai, eh. Fammi almeno introdurre questo luogo fighissimo, perché ragazzi, guardate quanto è figo. Una fortezza del nether è enorme e fighissima all'interno di un Basalt Delta. È spettacolare, ragazzi, mi fa davvero erigere il Pipo a proporzioni inimmaginabili, gigantesche. E come vedete, ragazzi, è pieno di stronzoni. Il nostro obiettivo è farci le nostre tre belle teste di Wither. Ci vorrà un bel po', lo ammetto, e sarà molto tedioso, e non sarà però l'unica cosa che faremo in qua. Ah, ok, grazie. Non me l'aspettavo di breccare un invidio, eh. Ci speravo, però non credevo che fosse così veloce. Boh, molto buono. Ragazzi, tre teste, cioè tre teste, non ho fatto fuori dieci guide. Ma è assurdo! Allora, adesso ve lo dico. Io l'altro ieri cosa mi sono messo? Mi sono messo a farmare off-camera, ok? Perché mi sono detto, io farmo un po' off-camera. Così se non trovo le teste, me ne basta prenderne una, poi ce le ho già le altre. Così faccio i primi. No, perché in trenta secondi ho trovato già tutte e tre le teste di cui ho bisogno. Io ieri ci avevo messo tipo quattro ore per trovarne cinque. Qui invece ci ho messo un cazzo. Ci avevo messo cinque minuti, ma non sono cinque minuti che sono qui a spadare, eh. Perché ho interrotto la vecchia clip, ho fatto fuori quattro Wither e poi gli altri che avete visto che ho fatto fuori mi hanno dato la testa. L'altra cosa che volevo dire è che io, di due deserti della sabbia delle anime che ho trovato, entrambi non posso distruggerli. Perché entrambi mi servono... Cioè, entrambi sono belli, sono zone belle che quindi non posso andare a distruggere. Sono zone in cui passo e che non posso andare a distruggere perché devo mantenerle. Comunque, cioè, raga, la fortezza nel Basal Delta è qualcosa di spettacolare. Voglio farvi vedere un nascorcio che forse avrete visto già sui social se mi seguite. Guardate da qui che figata. È una figata, il Basal Delta è forse uno dei miei biomi preferiti, benché non ci si possa costruire. Io mi ritrovo in una situazione difficile perché in teoria la maggior parte dell'episodio doveva essere rivolta alla cattura, al trovare le teste del Wither. Come avevo già detto, avevo già trovato delle teste di Wither. Una l'avevamo trovata nel video in cui abbiamo esplorato il Nether, il primissimo video in cui abbiamo esplorato il Nether. Le altre quattro le ho trovate da solo off camera, le altre cinque le ho trovate da solo off camera. E le tre, queste tre che abbiamo trovato qua, sono quelle nostre che quindi saranno quali importanti. L'altra cosa che dobbiamo prendere ovviamente è la Soul Sand, tre blocche, quattro blocchetti che dico, quattro blocchetti di Soul Sand che formeranno il nostro amico per sé, per la vita, perché ce la toglierà infinite volte, perché io sono scarso nel PVE, lo sapete. Mi farà un culo tanto, ma spero di no. Adesso il prossimo passo sarà creare il nostro personalissimo esercito di guerrieri e soldati che ci seguirà all'attacco del Wither. Anzi, prima dobbiamo trovare un posto adatto a sconfiggere il Wither, quindi prima troviamo il posto e poi lo affrontiamo. Ci troviamo sulla torre perché i primi soldati che voglio assoldare nella mia cerchia militare, peraltro così vedete anche il tetto completo per la prima volta, sono proprio dei cani. Io so che non ne ho ancora e voglio prenderli, ovviamente per prenderli dovrò spostarmi verso i biomi più freddi, dove di cani se ne trovano in abbondanza. Quindi cerchiamo un cane in modo che poi potremmo portarlo con noi. Qui c'è un lama, c'è un lama, sono ovunque ormai lama dei cazzo di venditori. Cerchiamoci un cane in modo da poterlo portare con noi e due cani addirittura, perché uno non ci facciamo un cazzo, con due li possiamo farmare e possiamo tenere un nostro piccolo esercito di cani. Pensavo addirittura di fare un piccolo esercito di api ma non saprei bene cosa possano essere utili, però insomma non si sa mai, magari dei cani possiamo farceli, ci può stare. Il bello dei cani è che loro si teletrasportano. Noi li possiamo prendere e loro si teletrasportano, quindi noi anche se ci muoviamo con le light, però loro ci seguivano lo stesso. È una figata questa cosa qua del sistema di trasporto dei cani, bisogna solo fare attenzione alla lava che non muoiono dentro, perché altrimenti sono cazzi. Stavo pensando che è davvero difficile perdersi qui nelle vicinanze, perché è vero che ci sono gli alberi alti, non si vede bene nell'orizzonte, ma la nostra casa è ben più alta di questi alberi. Stavo pensando che dovrei approfittare del bug del movimento dei conigli per farmi adesso una farm di conigli, ora che è facile prenderli e trasportarli. Però non c'ho... Oh, finalmente un cane! Amico mio, amico doggo! Grazie a Dio, finalmente abbiamo il nostro primo cane. Oh, vi giuro che è un bel po' che li cercavo e stavo per dire, guarda, non trovi cani? Magari posso farmi il mio esercito di conigli, ma non faceva ridere come battuta. Andiamo a cercare degli altri cani, un altro cane, perché uno solo non ci basta, ne dobbiamo avere almeno due. Ed eccolo qua, è incredibile, è incredibile. Una volta che ne trovi uno, ne trovi dappertutto. Bene, adesso noi possiamo tranquillamente tornare a casa e questo video è più facile del previsto, è molto più facile del previsto. Ora possiamo tornare a casa con i nostri due cani e andare a cercare un posto adatto ad affrontare il Wither assieme ai nostri cani e assieme ancora a un altro grande squadrone di gente, di cose che fanno male i cani. Devo prima trovare il posto adatto per combattere e poi dopo ve lo farò vedere. Come li chiamiamo i cani? Dubito sopravvivano, ma metti in caso che non succede, ma se succede, come li chiamiamo? Li chiamiamo Giangiotto e Gino. Giangiotto e Gino. Anzi, aspetta una cosa, io Giangiotto e Gino li salvo e ci facciamo la nostra esercito con i loro progenia. La loro progenia la lasciamo andare a morire. Perché ci sono i pillager? Cioè, non è il primo che mi capita. No, no, sta lontano da Giangiotto e Gino. Sta lontano da Giangiotto e Gino. Non è il primo pillager che mi capita qui a caso. Non so come mai sponino dei pillager qui. Penso sia un problema, perché mi era successo anche dall'altra parte, casualmente entrambe le volte su un fiume. Guarda un altro. Ma perché sponano i Vendicator in mezzo ai fiumi? Che problema ha il gioco? Che cazzo di problema ha il gioco? Cioè, sponano i Vendicator dentro i fiumi. Adesso ne sono certo, perché una volta, ok, due volte sarà una gran combinazione, ma tre indizi fanno una prova. Qui c'è un problema evidente per cui i Vendicator sponano in mezzo ai fiumi. Ma perché? Ma poi come ci arriva il gioco ad avere un problema del genere? È un bug importante, ecco, chiamiamolo così. Ed ecco qua, ragazzi, che finalmente daremo un nome a coloro che sforneranno la nostra progenie militare e potente, pronta a fare di tutto per difendere il regno. Bisognerà fargli anche una coccia a questi due, perché mi dispiacerebbe lasciarli così. Comunque, adesso non mi ricordo se per farli copulare servono le ossa, oppure, no, servono, serve le bistecchine. Le bistecchine, che noi ne abbiamo in grande quantità di carne. A questo poco ma sicuro, mettiamo solo... Ragazzi, l'ordine, eh, in magazzino l'ordine è importante, mi raccomando. Ragazzi, il nostro primo cavaliere è nato. Ecco, non si vede ancora il collare, ma lui sarà il primo di tanti, e non sarà l'unico, ragazzi. Adesso spostiamo lui in un luogo adatto, anzi, anzi, anzissimo, direi di andare a trovare un luogo per la nostra battaglia, dove potrò spostare tutte le mie truppe, dove poi finalmente sconfiggeremo il Wither. Allora, diciamo che la logica vuole che il Wither si affronti sotto terra, perché questo, perché così è più facile da affrontare, perché essendo chiuso, non potrà volare, non potrà allontanarci da noi, soprattutto nella seconda parte di sfida, dove non potrà più essere colpito con balestre e archi in generale lanciabili, e quindi dovremo per forza affrontarlo ne manualmente. Ecco, a questo fine, ho deciso che noi andremo qui. Noi lo sfideremo sotto terra, in modo da rendergli la vita impossibile. Ed è per questo che ho scelto di sfidarlo, peraltro anche il più lontano possibile dalla nostra base, perché non si sa mai nella vita, io sono scarso, ve l'ho già detto, ci sono buone probabilità che quel bastardo mi faccia un culo quadrato come non mai, e effettivamente non è molto tunneloso sta zona, effettivamente non è un gran che sicura come zona dove sfidare un Wither, però dobbiamo farlo ragazzi, per la gloria e per il beacon, perché anche quello voglio. Ecco qua la fine di questo tunnel, però per assicurarmi che sia il punto più lontano da cui possiamo stare, ho deciso... Madonna, ci sono subito delle caverne, guardate che sfiga. Peraltro, dato che ucciderà una marea di gente, guadagneremo anche un po' di roselline del Nether, sarebbe sicuramente un investimento interessante, diciamo che ottenere anche delle rose del Wither così sarebbe davvero tanta roba. Questo non è un gran posto per sfidare il Wither, ma a quanto pare di qua si va ancora avanti, e qua non è che ho scavato di recente sta zona, semplicemente ci sono ancora tutti i pezzi in giro, perché semplicemente non avevo più spazio nell'inventario, e automaticamente questi drop sono rimasti qua, perché essendo poi uscito da loro aria, semplicemente non sono desponati perché non ne erano più caricati. Il problema è che anche qui c'è un'altra grotta qui vicino, buongiorno signor Zomba, perché il problema del Wither è che poi si alza in volo e noi non possiamo più affrontarlo. Uh, dell'oro. Oro di cui abbiamo attonnellate perché abbiamo già una farm di oro. Ragazzi, devastante. Se non l'avete visto quel video, andate a vederlo. Intanto io scavo ancora un po', in modo da preparare non solo la zona dove sfidare il Wither, ma anche una piccola hub dove lasciare il mio esercito in attesa dell'attacco finale. Qui ragazzi, non è male come posto. Sì, ci sono delle pozze di lava qui ai lati, ma non dovrebbero essere un grosso problema. Del resto il grosso della sfida si concentrerà vicino al Wither Boss, che più di tanto non potrà spostarsi da qui. Quindi direi di creare la nostra piccola hub in questa posizione qui, scavare qui un pochino per poter posizionare il nostro Wither Boss, e qui ha più di mille blocchi, quasi mille blocchi di distanza dalla base. Adesso non so di preciso quanti blocchi sono dalla base. Affronteremo il nostro Wither Boss in completa sicurezza, perlomeno in sicurezza per la base, perché poi in sicurezza per la gente che ci stava qui, proprio per il cazzo in sicurezza. Adesso è il momento di portare qui il nostro esercito e tutte le truppe di cui mi circonderò per affrontare questa epica sfida. A me piace interpretare questo oro come un segno del destino, un segno della madre terra che ci vuole supportare e ci vuole aiutare dandoci dell'oro, permettendoci di costruire delle mele dorate per darci del potere extra. Questo è un segno divino della nostra vittoria su Wither. Segnatevelo, perché è questo che vuole anche la madre terra. Anche la madre terra ci sta assistendo in questo momento. Ecco qua i primi quattro cani, i primi quattro guerrieri che affronteranno questa battaglia. Adesso voglio portarli in qua, perché devo anche farli figliare. Il punto è che se devo farli figliare, devono essere, oltre che adulti, anche liberi. Quindi iniziamo a far figliare questi due. Non me ne servono, è più di tanto, insomma. Giusto qualcuno per far figura. No, non è per far figura, questi sono combattenti veri. Questi sono combattenti cattivi, putenti. Iniziamo a preparare anche gli altri soldati. Soldati a cui non davo la vita subito, perché non voglio che laghi troppo. Anzi, dovrò allaggere anche questa posizione. Ma che ci saranno sicuramente molto utili. Abbiamo puntualmente trovato sopra una grotta. Ecco, questo non è esattamente il massimo, ma vabbè, non importa. Siamo a 900 blocchi circa di distanza da casa. Non sarà un problema, almeno spero. Ok, l'armata dei cani è quasi completata. Qui ho posizionato il mio esercito di golem di neve. Sono 9 golem di neve. Mentre qua ci sono alcuni golem di ferro. E di là pure. In tutto anche questi sono 9 golem di ferro. Noi faremo spawnare i wither qui in mezzo, in balia del nostro esercito. Mancano ancora alcune preparazioni. Ma voglio riservarle per il prossimo video, dove andremo a prendere a calci in culo il wither boss. Una volta per tutte. Poi festeggeremo. Cazzo se festeggeremo. Like, commento, condividi, iscriviti. Attiva la campagna di non delle notifiche e passa da tutti i miei canali social. Instagram, Telegram e Pregata della Betulla.